Ciao mamma, giovanotti, guarda come mi diverto, chissà se l'hanno detto anche i figli della nostra ospite. Buongiorno a Carla Belli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Voi direte, chi è Carla Belli? Non sapete chi è Carla Belli? Fatevi però, ormai è il nome che è su tutti i social, su tutti i giornali, su tutte le radio in questi due giorni. Per fortuna il nome non è stato diffuso, solamente la notizia. Abbiamo questa esclusiva, quindi anche di diffondere il nome. Allora è la mamma, famosa mamma, che ieri ho insultato praticamente in diretta, quindi ti chiedo scusa per un momento e poi peraltro chiedo scusa ai bambini, che veramente poveretti. Allora, la notizia era il museo del Novecento non è a misura di bambini, un tuo post ha acceso la polemica. Ci tengo a precisare che il titolo non sono parole mie, ma ovviamente è stato il titolo della giornalista. Io semplicemente commentavo in questo gruppo di mamme, di cui faccio parte da ormai 5-6 anni. Di nome sei il coraggio? Mamis, Mamme Milano Club. Mammi Club, ragazzi, ti prego. Ho visto anche il logo, lasciamo stare. È un bellissimo gruppo dove si può confrontare fra mamme, dare consigli, raccontare le proprie esperienze di Milano, ma non solo, anche viaggi, tanti consigli, è un bel gruppo insomma. Ok. E commentavo un'esperienza un po' spiacevole di visita al museo del Novecento, dove siamo stati un po' braccati dagli addetti di sala, che si vede che erano particolarmente preoccupati dall'arrivo di questa felice famigliola in visita, con questi bambini piccoli, e abbiamo avuto proprio questa sensazione di essere un po' sorvegliati speciali, no? Il giorno di Pasqua? No, il giorno prima. Ah, infatti, già erano tutte sbagliate. Mi sembra che il giorno di Pasqua fosse aperto il museo del Novecento. No, perché tutti i post che vengono pubblicati nel gruppo devono essere preautorizzati, quindi giustamente anche gli amministratori si stavano godendo le fede. Ovviamente io ci ho fatto tanta ironia su questa cosa, sapete poi come la penso sui bambini che sono sempre in giro. Comunque, ma in realtà, però dicevo ancora una cosa, dicevo, il problema secondo me non è tanto il museo in sé, quanto il fatto che appunto tu, tuo marito, volete andare a fare un giro al museo tranquilli, e non c'è modo però di gestire il fatto che, felicemente, appunto avete due figli e volete gestire questa cosa. Ma guarda, noi abbiamo piacere di portare i bambini al museo. Ecco, i bambini anche? Sì. Perché la domanda è questa, la domanda fondamentale è questa. Allora, i bambini sono piccoli, il grande ha cinque anni, la piccola ha due anni e mezzo. Ok. E li abbiamo sempre portati ai musei con noi, abbiamo sempre viaggiato nelle nostre possibilità e crediamo che il museo sia proprio un luogo da vivere e da vivere insieme, da vivere in famiglia. Poi il museo non è solamente le opere che vai a vedere, ma proprio il luogo che vai a visitare. I musei sono affascinanti, cioè i miei figli sono stati dieci minuti a guardare le persone in Piazza del Duomo, perché il Museo del Novecento è una bellissima vetrata che affaccia sulla piazza e da lì si può godere proprio di tutta la visuale, quindi... Io proprio mi domandavo, la piccola ha due anni e mezzo, cosa può capire del Museo del Novecento? Niente. Ma ti stupirò, perché lunedì di Pasquetta abbiamo visitato la Fondazione Prada. No, vabbè, però se hanno accesso a internet, guardiamo la cronologia di questi bambini, secondo me, come denunciare per sequestro di persona un genitore? Decidiamo che bambini vogliamo crescere, vogliamo crescere dei bambini che conoscono centri commerciali e fast food, vogliamo crescere dei bambini che si sono avvicinati all'arte fin da piccoli, hanno imparato a fruirne, a comportarsi in questi luoghi. Così non vale, vinci tu, perché se c'è una cosa che... Chi ci ascolta sa che non sopportano i bambini, ma se c'è una cosa che oggi di più sono i centri commerciali, quindi capisci che hai vinto questa volta. Infatti, purtroppo, tra i vari commenti al posto che ho ricevuto è stato proprio quello, i musei non sono posti per i bambini, portali in luoghi più adatti a loro. Ecco, su questo io ti ringrazio tantissimo per l'invito, per la possibilità anche di replica, perché invece credo fermamente che i musei possano diventare dei luoghi da vivere insieme, in famiglia, grandi, piccoli, anziani, persone con disabilità. Credo che siano proprio dei posti dove ci debba essere la possibilità di godere dell'arte tutti, ognuno con le proprie capacità, perché adesso, in sincerità, non credo che tutti gli adulti che visitano i musei siano in grado di comprendere le opere. No, a questo punto credo che la piccola Unione e mezza ne sappia più di meno, cioè, visto il suo background, a questo punto credo sia lei a potermi portare in giro per i musei. Perché nell'articolo raccontavi anche di esperienze fatte in altri musei che invece sono andate molto bene, da quanto ho capito, no? Sì, 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 parlavi degli uffizi, se mi sembra. Sì, sì, gli uffizi poi sono stati particolarmente provanti, perché sono un museo enorme, siamo stati dentro più di due ore e mio figlio era completamente affascinato dall'idea di vedere la Gorgone alla fine, anche perché lui ha una passione per i mostri e la mitologia e quindi... Infatti poi al Museo del Novecento una delle grandi delusioni è stato anche il fatto che tutta la sezione del Manzoni fosse chiusa e sai che c'è un meraviglioso barattolo che contiene un elemento che ai bambini piace particolarmente, non abbiamo potuto vederla, va bene, la parte era chiusa. Anche i tagli di fontana li avete visti? I tagli di fontana sono piaciuti tantissimo. Vabbè, sono piaciuti a loro perché nessun altro li capisce, quindi vedi, ecco qual era il segreto, era vedrì da bambino. Esatto, ma io e il mio compagno amiamo l'arte, non siamo degli esperti, siamo degli appassionati, ci piace e crediamo che dare la possibilità ai nostri figli di avvicinarsi all'arte fin da bambini sia un dono che stiamo facendo loro. Non sempre facile purtroppo. Eh, non sempre facile appunto, poi ripeto, io ci ho fatto della sana ironia e appena ho avuto modo di averti qui, anzi ho avuto appunto subito averti qui per invece sapere la storia vera, come era andata. Immagino che sui social la cosa sia un po' scappata di mano in alcune situazioni. Mi ha fatto molto sorridere quando hanno commentato il post dicendo, poi la polemica sui social è stata molto civile, ognuno ha detto la sua rispettando il parere degli altri, ecco cosa che ovviamente sappiamo che... Non è stata così, immagino. No, non è stata così, sono stata molto attaccata. Mi ha anche stupito perché in una pagina appunto come quella di Mammis che frequento da tanti anni... Altre mamme hanno... Sì. Hai capito le mammine? Perché ci si è attaccati molto al fatto anche della... Io ho chiesto la possibilità di fare merenda ai bambini. Anche te Carla però, sei in un museo e questi vogliono mangiare i succo e taralli. Succo e taralli. All'interno dei musei non si mangia. Va bene, è una regola, l'abbiamo rispettata. Ma mi permetto anche di dire, ma è giusto? È giusto che all'interno dei... Ci sono fior di musei dove ci sono ristoranti, ci sono bar, un'esperienza di visitare un luogo e non starci dentro 20 minuti, ma avere la possibilità di starci dentro un'ora, due ore, passare proprio del tempo di qualità in famiglia, può prevedere anche una merenda, un bar, una stanza adibita a questo uso. Quindi anche questa regola mi permetto di rispettarla, assolutamente ci mancherebbe altro, però anche di metterla così in discussione. Se vogliamo dare ai bambini la possibilità di avere un ricordo bello, potrebbe anche includere un momento di relax, uno spazio ad hoc per poterlo fare. Ma è possibile secondo te però creare appunto... Ma non parliamo solo di musei, perché poi prima, anche quello che dicevo ieri in trasmissione, dicevo non è solo il museo in sé, il problema è che noi cerchiamo di creare dei mondi fatti a misura di bambino fuori, in giro per il mondo, quando poi in realtà le cose però da bambino spesso non interipano su una misura da bambino, no? Cioè, troppo spesso poi ce li dimentichiamo in realtà. Facciamo tanto gli alternativi quando vogliamo fare i bar, le cose, poi però magari appunto uno ha degli impegni e le scuole chiudono a quell'ora e non si può andare oltre. Sabato e domenica non c'è nulla che possa aiutarci nella gestione dei nostri bambini. Da che parte stiamo andando? La mia domanda è questa, cioè... Noi stiamo esagerando da una parte dove vogliamo ovunque spazi per i bambini e dall'altra invece dove dovrebbero esserci spazi per i bambini, quali non esistono? Io credo che la separazione non sia corretta, cioè quando vogliamo creare degli spazi ad hoc per qualcuno, per qualcosa, mi lascia sempre un po' perplesso. Sarà perché lavoro nel mondo della disabilità, dell'inclusione, quindi penso che questa parola sia molto bella, cioè includere tutti in ogni spazio. Poi, per carità, ci sono dei luoghi... Non mi sognerei mai di portare i miei figli in un ristorante stellato, se mai ci potessi andare. Però ci sono dei luoghi normali, le trattorie, i parchi, ma anche i negozi. Cioè, in questi giorni, che ovviamente immagino ho avuto tante occasioni di scambio su questo tema, mi raccontava una mia amica che in Germania è andata in una ferramenta e la ferramenta aveva un'aria giochi per i bambini. Cioè, quattro martellini, perché a volte non ci vuole tanto, quattro martellini di legno per farli giocare. I genitori, nel frattempo, fanno acquisti. Cioè, metti anche il cliente nella condizione di poter comprare di più, di poter tornare con volentieri in quel luogo. Quindi tu dici, non c'è tanto da pensare, appunto, bambini qua, adulti di là. Cioè, creiamo dei luoghi che vadano bene un po' per tutti. Perché la critica, diciamo, oppure la paura di quelli come me, diciamoci la verità, è che poi io vado al museo e mi devo trovare questi marmocchi in mezzo ai piedi ovunque, devo vedere le cose come se fossi, che avesse anche io sette anni, e devo avere tutto colorato, invece voglio vedere le mie cose del museo tranquillo. E invece, secondo me, si può creare proprio un arricchimento reciproco, perché nello stare insieme, nello stare insieme si cresce insieme, e poi i bambini sono un male necessario se non vogliamo estinguerci, non so come dire. Male necessario potrebbe essere una t-shirt con cui vado in giro, effettivamente. Ovviamente non pretendo di delegare il fatto di doversi, come dire, i bambini non vanno in posti agli altri, i bambini si devono saper comportare nei posti, molti dicono si va nei ristoranti, poi i genitori non si prendono cura dei propri bambini, queste cose ovviamente. Ma sarebbe giusto fare dei ristoranti dove poi non possono entrare i bambini, ad esempio? Sì, perché no. Io su questo non sono, perché il ristorante è un luogo privato, dove si va a mangiare, non è un museo dove si deve fruire dell'arte, e credo che l'arte debba essere a disposizione di tutti. Se uno vuole creare un ristorante dove i bambini non possono andare, se la legge lo permette, io sinceramente non ho niente in contrario, ma anche un resort. Io mi immagino, voglio farmi cinque giorni alle Maldive, in Santa Pace, non voglio avere bambini, ma per carità. Cioè piuttosto che andare in un posto dove non ti senti ben accolta, so che lì non posso entrare, va benissimo. Però questo non deve prevedere cose come l'arte, la cultura, o altri beni che devono essere di tutti. Il commento che ti ha fatto più arrabbiare, però, qual è stato? Dai, dici. Il commento che mi ha fatto più arrabbiare è stato quello proprio dove mi hanno detto ma perché porti i tuoi figli al museo? C'è tempo per tutti. Aspetta qualche anno e vedrai che poi li potrai portare. È come se ci fosse, appunto, una data. Dai sei anni in su possono andare, dai dodici anni in su possono andare. Ogni genitore conosce i propri figli e deve anche essere messo nelle condizioni di poter far fare loro tutte le esperienze. Non lo dico io che non sono nessuno, ma lo dicono fiordi pedagogisti. Bisogna avvicinare i bambini all'arte sotto i tre anni. È molto importante. Chiaro. Facciamo un attimo, prima di chiudere, la lista dei musei che fino ad adesso hanno visto i due piccoli sequestrati. Cosa hanno visto? No, non sarei in grado di fartela. Perché è lunghissima. È lunga. La primavera scorsa eravamo a Londra, che è una città che io amo particolarmente, dove i musei sono gratis. Quindi in qualsiasi momento tu vuoi andare a vederti un Van Gogh, non devi neanche pagare. Vai, stai dieci minuti davanti alla meraviglia e poi vai a fare quello che devi. Ok, sarebbe interessante fare questa intervista ai due piccoli. Ma io te li volevo portare stamattina. Avevo paura. Sapendo quanto amo i bambini, volevo presentarmi qua con i pargoli. No, però adesso dico una cosa. Sappiate una cosa. Io i figli degli altri li voglio sempre bene. Per dieci minuti. Poi tornano a casa loro, quindi non c'è problema. Sarebbe più complicato se fossero i miei. Ecco, quello sarebbe un po' più complicato. Quindi sono ben contento che continuate a farli. Continuate a far progredire la specie umana. Grazie anzi per questo lavoro socialmente utile che fate per tutti noi altri. Aiutateci però. Va bene. No, grazie veramente Carla. Grazie per averci comunque messo i puntini sulle i che è veramente complicato. Perché immagino, cioè, da una pagina di un gruppo trapperti di privato, quindi in qualche maniera questo commento è uscito e poi è arrivato in mano ai giornalisti e poi è stato spostato a chi lo impaginava sul web e tutto. Quindi immagino che cosa sia venuto fuori e ne abbiamo potuto raccontare. Quindi grazie mille davvero Carla per averci raccontato veramente quello che è successo. Grazie mille. Grazie mille ancora Carla. Noi torniamo fra poco sempre qui in diretta e parliamo di tante tante altre cose qua sempre a Good Morning Milano.